Oh oh! Com'è la storia qua? Ma da dove sei salita? Perché sei salita di là? Ma è stato basso! Pollastro! Pollastro! Dici che mi conviene buttarla giù fino a là e basta! Vabbè la rifo! La rifo! Appena si libera la corsia! Devi caricare tanto di dietro con il sedere, sennò ti fermi subito. Come ha fatto il check! Ui 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 ui! C'è l'ultima! Grazie a tutti.